Nessuno potrà togliervi la vostra gioia, dall'incontro con Cristo alla gioia della missione ecclesiale. E questo è il tema scelto dalla Diocesi di Vallo della Lucania per il convegno pastorale di quest'anno, a relazionare sulla frase che ha aperto le riflessioni alla luce dell'Evangelium Gaudi, padre Alberto Trevisol, direttore dell'Università Urbaniana di Roma. La gioia di incontrare il Vangelo è di sapere che da quel testo, da quel messaggio nasse per me la possibilità di un incontro vero, personale, con colui che ha trasmesso questo messaggio, con colui che si comunica a me in una relazione amorosa, di accoglienza totale di me, che mi fa star bene, che mi fa sentire contento e che dà a me la possibilità di trovare, in ciò che lui dice, in ciò che lui annuncia, una ragione per essere felice nella mia vita. Chiaro questa gioia, poi spontaneamente, direi quasi, la comunichi. Quando io sono felice, quando io sto bene, gli altri lo percepiscono. Se questo mio star bene nasce dal Vangelo, gli altri percepiscono che la forza del mio incontro con loro viene dal Vangelo. E' questa gioia che mi dà anche la possibilità di accogliere gli altri senza giudicarli, ma con un cuore pieno di tenerezza, che non mi dà la possibilità di dire o di sottolineare o di fare delle sue diversità qualcosa che mi allontana, ma al contrario, in un certo modo sentirmi integrato e completato proprio dalla diversità che mi viene incontro. Una diversità che fa sì che io sia una persona dove l'altro può riposare, può sentirsi accolto, perché è una relazione di amore che, partendo dal Vangelo, si instaura anche con la persona che incontro in qualunque situazione e in qualunque circostanza. Io non ho la soluzione ai problemi del mondo, né tantomeno la soluzione ai problemi delle persone. Però io al mondo in cui vivo e alle persone che incontro posso dirgli senti che il mio cuore ti accoglie, senti che per me tu vali per quello che sei come sei indipendentemente dalle diversità che ci possono essere tra noi.